Ciao a tutti e bentornati! bentornati qui con me e se invece è la prima volta che passi di qua guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale grazie mille oggi una buona torta facile gustosa e molto profumata la mia mente è già proiettata verso l'estate e i suoi aromi e quindi oggi prepariamo insieme torta variegata al limone la mia ricetta inizia da questi bellissimi limoni biologici mi raccomando che siano bio perché dobbiamo grattugiare la buccia grattugiamo solo la parte gialla e degli stessi devo estrarre il succo e ora in una pentola due tuorli aggiungo lo zucchero e vado a lavorare con le fruste un paio di minuti poi la fecola e unisco la buccia del limone il succo e vado a unire poi latte tiepido mescolo metto sul fuoco con la fiamma bassa e continuo a mescolare fino a quando si addenserà appena si addensa a mo' di budino spegnere trasferisco in una ciotola copro con pellicola a contatto cioè vado a far aderire la pellicola alla crema stessa e lascio raffreddare e ora pensiamo alla base della torta rompo 4 uova aggiungo lo zucchero vado a lavorare fino a quando diventano bianche e spumose e poi aggiungo la buccia di un limone grattugiata il burro morbido e vado ad amalgamare il latte a temperatura ambiente il succo di un limone alla farina unisco il lievito e la aggiungo con un setaccio e vado ad unire la farina riprendo il composto tortiera a sgancio da 24 cm ricoperta sul fondo e imburrata ai lati metto tutto il composto vado a livellare riprendo la crema e la metto a cucchiaiate a caso e ora con uno stecco per spiedini vado a fare un disegno e siamo pronti ad infornare a canali a canali in